La crisi causata dalla pandemia di Covid-19 ha riacceso un lungo dibattito tra i paesi dell'Unione Europea sulla solidarietà finanziaria. I leader di nove stati membri, tra i quali Giuseppe Conte, hanno scritto una lettera congiunta chiedendo misure di sostegno, tra cui uno strumento di debito comune, una sorta di Corona Bond. Tra i firmatari non c'è la Germania, da sempre ostile a questo tipo di piani. L'opposizione di Berlino è stata recentemente rafforzata dal ministro dell'economia tedesco. Posso solo raccomandare che non si conducano dibattiti fantasma per motivi ideologici in cui ognuno tira fuori la propria soluzione, concetti vecchi di 5-10 anni. Sono contento che le proposte su Eurobond o similari non abbiano trovato grande riscontro. La richiesta di un sistema di Eurobond in cui i paesi avrebbero garantito il debito per stabilizzare le economie fragili si è manifestata durante il crollo finanziario della Grecia. La pressione sta tornando a crescere, ma la Germania e gli altri paesi del nord restano fermi sulle proprie posizioni.